Top 10 Castellina Pasi, segretamente Caramel, alleluia Anna Maria Allegretti, libera Un bacio a te, dell'Orchestra Italiana Bagutti Artista del Mese di Liscio.1 L'artista del Mese di Aprile di Liscio.1 è Beatrice Pericoli, accendimi il cuore Scopriamo chi si trova nelle prime cinque posizioni 5 Bagutti, Lambertini, Lanteri, Tarantino, Bensi. L'Italia siamo noi 4 Luigi Guerra, Anastasia Al terzo posto c'è Omar Codazzi e Aurora. Perfect Al secondo posto c'è Rossella Ferrari e Casanova, il canto del mar Primo posto per Omar Lambertini, un amore così Scarica adesso l'app di Liscio.1 E ascoltaci ovunque dal tuo smartphone e tablet Resta sempre aggiornato sul mondo della musica da ballo Segui la pagina Facebook di Liscio.1 Segui la musica da ballo italiana Sì Primo posto per Sì Grazie a tutti